12 mesi fa i marottesi si recarono alle urne per un voto atteso da decenni, il referendum consultivo per l'unificazione di Marotta con Mondolfo, il 9 marzo 2014. Dunque una data storica per la Berlino dell'Adriatico a vincere. Infatti fu il sì con quasi 70% dei voti. 2793 diedero l'ok al passaggio della frazione di Marotta di Fano al comune di Mondolfo contro 1.357 contrari. Poi dopo il referendum il 17 giugno scorso si è svolta la valutazione del Consiglio regionale che ha dato il via libera alla legge d'iniziativa popolare sullo spostamento di confine. Furono 22 i voti favorevoli, 6 i contrari e 3 gli astenuti. Una grande soddisfazione innanzitutto per il comitato Pro Marotta Unita che fu il promotore della proposta di legge. Oggi è il primo anniversario? Sì, è il primo anniversario del referendum che unisce Marotta con Mondolfo. I servizi sono passati dal 1 gennaio al comune di Mondolfo, logicamente, perché fino al 31 dicembre i cittadini avevano pagato gli oneri a Fano e quindi era giusto che Fano avesse provveduto fino a quella data. Come vivono i cittadini ora? Ci sono ancora dei problemi da risolvere? I problemi dovranno essere risolti soprattutto dal punto di vista non dei servizi ma delle strutture, quindi dei beni, i beni che devono passare dal comune di Fano al comune di Mondolfo. C'è anche una proposta sul cambiamento del nome del comune, questo proposito? Sì, sì, c'è una proposta fatta alcuni mesi fa dal presidente del Consiglio regionale, Vittoriano Solazzi, di cambiare il nome dal Bondolfo in Marotta di Bondolfo. Ha bisogno o della richiesta di un consigliere regionale oppure le 5.000 firme famose da raccogliere. Noi abbiamo cercato di convincere Vittoriano a portarla perché vogliamo evitare di nuovo una ricolta referendaria delle 5.000 firme e quindi di accelerare un po' i tempi. Però so che è in stand by in regione, se ne dovrà occupare la prima commissione e credo che non ci siano i tempi tecnici per portarla in consiglio in questa legislatura. Per domani il comitato ha organizzato un momento conviviale per ricordare la vittoria, un obiettivo rincorso da tanto tempo. La ricordiamo unendoci noi tutti quelli del comitato di Marotta Unita che hanno collaborato alle firme, al referendum eccetera, con i simpatizzanti in un ristorante per una sbicchierata augurale per il futuro.